ma vi altri maniè o l'olio de palma? no perchè tutti se devo scrivere dappartutto senza olio de palma tra un piano scriverà anche sui cupipo al quarto l'olio de palma se è un olio gli acini grassi non so se ne avrei mai sentito di suo non fa mai a meno che non le maniè un bancae l'unico problema se chi può dargli fuoco a foresta per fare nuove coltivazioni l'altro giorno parlavo a divisione del nuovo spot di afferrero savi quelli che fanno nutella e vari cioccolatini e io gli dice che gli do per l'olio de palma e quindi mi gariavo voglio domandargli ma si tomona o manito sassi tu ti devi dire che gli do per l'olio de palma e ti ti devi dire che te lo do per l'olio de palma e gli dice che Iori ha coltivazioni sostenibili a provare da Greenpeace, WWF e compagnia Bea se Iori riesce a fare la coltivazione del genere perchè non puoi riuscire a tenere quello che resta del nostro pianeta comunque ne starà tanti sassi quindi li potrà continuare a mangiarli quei che non è mona grazie grazie grazie